Volevo condividere un pensiero che ho trascritto alcuni mesi fa e che oggi iniziando questo percorso del biennio ho risentito e quindi ho avuto un po' come conferma che non è un pensiero mio e questo pensiero di cui tu parli probabilmente gira e parla semplicemente e qualche volta devo ammettere che grazie a questo percorso mi capita di ascoltare e di provare a trascrivere qualcosa che mi sembra di sentire sono emozionato perché per me questo è un atto rivoluzionario perché non mi concedo mai di condividere queste cose con grande presunzione appunto il mio lato è presuntuoso, mi impedisce di condividere però se effettivamente compio un piccolo atto un po' più basso, un po' più vicino alla terra e capisco che sono cose che non sono mie o comunque mi appartengono solo in parte quindi volevo condividere una cosa e sono... scusate, sto tremando però insomma questa cosa l'ho chiamata così, atto penitenziale e proprio grazie a quella cosa che avevo scritto ieri che il cuore più illuminato vede meglio anche quello che offusca lo sguardo che c'era nel Salmo allora ho preso spunto dal dato penitenziale che si dice proprio durante la messa che a un certo punto mi sono accorto che non mi diceva più niente dicevi passiamo dal lato penitenziale al Gloria sì ma io non sono pronto al Gloria allora confesso a Dio all'io sono omnipotente alla vita vera all'essere che nell'uomo si manifesta a Dio all'io che mi abita e tutto può in me se io non sono e a voi fratelli nello spirito fratelli solo nel luogo del silenzio fratelli solo nell'abisso che ci accoglie e ci abita e che ci genera confesso che sono molto diviso in pensieri frammentati e frammentanti dolorosi e doloranti perché ogni volta che abito questo stato mi sento dolore e produco dolore prolifero confusione in me e gambi al mio prossimo in parole male dette nella paura nella rabbia e nel dolore ogni volta che apro bocca da questo stato prolifero male dizioni paura insicurezza confusione sono diviso nelle opere che centrifugo all'esterno di me nel mio desiderio di aprirmi ma restando chiuso difeso nel mio agire distratto e ignorante di me, del mondo e della vita di Dio ed omissioni nel mio essere bloccato freneticamente bloccato dalla paura dentro la quale ogni volta ometto la mia natura umana umana mente divina divinamente pensata donata in me esgorgata ed invoco supplicante rivolto a quel punto di me della mia carne dell'umanità immacolato vuoto contenuto ed espanso circoscritto e senza confine beatamente libero di intercedere tutti per la mia stabilità nella mia massima consapevolezza della mia precarietà di intercedere tutti grazie a tutti grazie a tutti